Ci troviamo in via Mediterraneo nel tratto compreso tra Tramontone e Monrev, un'azione meritoria dell'associazione Siamo Taranto che dalle 18 di oggi 30 luglio è intenta con la sua azione di volontariato a bonificare l'aria, una raccolta enorme di rifiuti di ogni genere, quindi un'azione meritoria di questa associazione, un supporto prezioso rispetto a chi è preposto istituzionalmente, chi ma ambiente, però dopo le rose, come si suol dire, dobbiamo anche evidenziare le spine, nel senso che ci sono gli incivili, ci sono gli sporcaccioni e sono tantissimi, ma questi devono essere sanzionati senza se e senza ma. Occorre il pugno di ferro dei confronti di questa gente e l'appello allora alla Polizia Municipale, al Comandante, a essere durissimi, inflessibili, nessuna misericordia, pugno di ferro verso questi incivili. Di più l'appello a chi va ambiente, per esempio, a mettere anche qui le videotrappole, perché sappiamo benissimo che qui avviene il porcile. Altro discorso per le ditte, appunto, che per conto del Comune di Taranto, in appalto eseguono le opere di bonifica, di taglio e pulizia delle erbe. Beh, io dico, loro insieme agli altri soggetti preposti, oltre a tagliare l'erba, dovrebbero anche avere cura a rimuovere certi rifiuti di ogni genere. Penso anche, per esempio, agli inerti. Vedete, qui ci sono dei pali della luce della pubblica elettrificazione che giacciono così da anni caduti e sono qui abbandonati. Ora, io dico, prendiamo esempio dall'azione meritoria di Siamo Taranto, ma le istituzioni facciano la propria parte e non devono aver nessuna paura, mi riferisco alla Polizia Municipale, di essere etichettati come razzisti o, peggio ancora, come direbbe qualcuno, come soggetti che intenti a fare le ronde. No, assolutamente. Questa è democrazia, è civiltà, è rispetto dell'ambiente. Sanzionare il cittadino incivile, sanzionarlo senza alcun tipo di misericordia. D'altronde, anche Bologna, città rossa, e parliamo rossa, ha usato delle misure drastiche nei confronti di questi incivili. E quindi dov'è il problema? Non c'è nessun timore di essere etichettati come fascisti. Quindi un appello a Chimambiente a posizionare qui telecamere, fototrappole per davvero immortalare e punire, ripeto, in maniera draconiana questi incivili. E parimenti la Polizia Municipale, l'invito alla Polizia Municipale, alla Polizia Municipale, a essere davvero inflessibile, inflessibile, posizionarsi e stangare. Non dico altro.